Diciamo che tante volte il risultato non rispecchia quello che è la prestazione della squadra. Non è la prima volta ovviamente che succede, ma dobbiamo sicuramente metabolizzare questo pareggio e la prestazione è stata fatta un'ottima prestazione. Sicuramente chi ha giocato, a prescindere da chi mancava, ha fatto in modo di impegnarsi al massimo e di ribaltare un risultato che nei primi 45 minuti, oltre al rigore sbagliato, siamo andati sotto e poi dopo i ragazzi hanno fatto in modo di ribaltare il risultato. È stato un peccato perché negli ultimi minuti secondo me potevamo e dovevamo fare in modo di gestire meglio la parte finale. Questo fa parte della pandemia e poi a prescindere da infortuni o squalifiche, parlo della pandemia, bisogna fare in modo di accettare quello che sono gli esiti e trovare un 11 che possa, unito ai giovani, possa trovare un 11 che dia quella forza perché rinunciare a tante partite, rinviare tante partite e poi trovarsi a giocare ogni tre giorni, sicuramente poi dopo non è facile, quindi abbiamo deciso di giocare e chi ha giocato ha fatto quello che doveva fare. Giocare sicuramente una gara in un campionato importante come questo, bisogna essere presenti e giocare con tutte le forze possibili e immaginabili. È ovvio che andare a giocare una partita dove non ci sono quelle forze, parlando di giocatori ovviamente, che la pandemia ti esclude a posteriori, a prescindere dalle partite che tu devi recuperare, come è successo ci può anche stare che purtroppo abbiamo dovuto rinviare la partita con la Manzanese. Io credo che sia una delle squadre che in questo momento sta facendo in modo anche di vivere su quello che possono essere gli entusiasmi, oltre ad avere un buon allenatore e dei buonissimi calciatori. A differenza di tutti quanti noi, forse è quella che ha avuto meno problematiche di pandemia e quindi ha giocato con più continuità e questo non è da poco perché sicuramente aiuta nella condizione fisica e mentale di ogni squadra nel nostro girono. La fine del girone d'andata, anche se manca ancora un mese e mezzo alla fine del girone d'andata, mi farò un'idea. Io credo che oggi bisogna intanto fare di necessità virtù, perché questo è un campionato anomalo, è un campionato dove alle ultime 24 ore decidi o 48 ore decidi se puoi giocare o meno perché va in base anche a quelle che sono le disponibilità di ogni atleta e quindi devi fare di necessità virtù. Però stare a dire che è un campionato reale, ti dico che assolutamente non è così. Non possiamo fare altrimenti, dobbiamo adeguarci a questo sistema perché se no si chiude baracca e burattini e quindi non conviene a nessuno, ma parlo nel nostro settore come possono essere negli altri settori perché comunque noi dobbiamo andare avanti anche con queste enormi difficoltà e allo stesso tempo bisogna fare in modo di farsele scivolare. Grande attenzione, ma farsi scivolare questa cosa perché poi dopo può pesare a livello emotivo. Per quello che io ti parlo fino alla continuità che noi abbiamo avuto nella partita con la Clodiense, la squadra aveva avuto un cammino tuttora, un cammino importante sicuramente, però era arrivato a una fase dove stava raggiungendo una maturità che dal mio punto di vista doveva solo poi dopo continuare. Siamo stati un mese fermo, abbiamo avuto questa difficoltà di mestre anche se poi dopo i ragazzi hanno reagito, però c'è arrivata la prima sconfitta. Ci siamo ripresi subito dopo tra Union Feltre e Sedico e poi abbiamo dovuto rinunciare di nuovo alla partita con la Luparense e con il Montebelluna. Anno nuovo siamo riusciti a raccogliere i cocci per andare a giocare a Caldiero e questo è il campionato, quindi non è facile trovare quella famosa amalgama, però bisogna fare in modo di trovarlo anche con queste difficoltà. Sì, mi aspettavo questo, è l'unica cosa che ovviamente ci priviamo, ci priviamo della nostra gente. L'ho detto in precedenza, lo confermo adesso, questo vale ovviamente per tutti, però rispondendo alla tua domanda sicuramente io credo che il tifoso trentino che riempie qui la tribuna del Briamasco e i nostri tifosi dall'altro lato che fanno in modo di stare vicino ai ragazzi, purtroppo questa è una cosa che in questo momento devo astenermi ad avere questa forza da parte loro, anche se fuori dal campo, trovandoli in centro, trovandoli per strada e sui social ci stanno sempre molto vicini e quindi le ringrazio.